Che cosa ti devo dire? Ti devo spiegare qua cosa facciamo? Ecco qua stiamo combinando, stiamo combinando il settore di Polonia, il settore di Polonia, il comune di Uniti, hai capito? Allora stiamo lavorando, eh, sono fermi così. Con chi stai lavorando? Stiamo lavorando e non stiamo pagando qua presenti di anello, il pasto di anello, con il signor Amici che adesso sta rendendo perché, non lo so perché, e tutti questi altri che non lavoriamo insomma, questo si fa controletto da sotto, sì, tipo da sotto, va. E chi fa questo filmato? Eh, filmato che fa l'amico mio, buon amico mio, Thaiz, buon amico mio Thaiz, capito? Eh, stiamo qua, va, io.